Il trading è una cosa che ti consente di essere libero, cioè tu lo puoi fare ovunque, ti basta un computer, un iPad e puoi tradare da qualunque parte nel mondo, quindi sia che ci sia il lockdown, sia che i mercati siano aperti e dicendo. Ciao, sono Alfio Bardolla e oggi vi parlo di trading. Perché mi piace così tanto il trading? Beh, intanto i fatti recenti sul discorso Covid hanno dimostrato che il trading è un'attività che può essere fatta anche in caso di lockdown. E quindi abbiamo ricevuto migliaia di ringraziamenti, veramente un sacco di persone che ci hanno ringraziato, che in qualche modo li abbiamo salvati perché avevano questa opportunità di avere questa entrata. E anche altre migliaia di clienti si sono iscritti per fare i corsi perché diventava importante per loro riuscire ad avere un'altra entrata, a far fruttare il denaro che avevano. Ora, quali sono le cose, perché il trading mi piace così tanto? Perché noi siamo la più grande azienda in Europa che insegna questo tipo di attività. Intanto, perché il trading è una cosa che ti consente di essere libero. Cioè tu lo puoi fare ovunque, ti basta un computer, un iPad e puoi tradare da qualunque parte nel mondo. Quindi sia che ci sia il lockdown, sia che i mercati siano aperti e dicendo. L'altra cosa è che ci sono tantissimi strumenti, quindi puoi tradare su migliaia, migliaia, decine di migliaia di cose. E quindi cercare la tua nicchia per avere successo in questo settore, credo che sia una cosa molto ma molto importante. Quindi questo poi ti aiuteremo in qualche modo a farlo. A me piacciono molto le commodities. Le commodities che cosa sono? L'oro, il petrolio, il gas naturale, il legname, il succo d'arancia congelato come l'avete visto, è sicuramente una poltrona per due. Ecco, quelle sono le commodities. Perché sono interessanti? Perché le commodities sono stagionali. Perché molto spesso il grano viene raccolto, viene seminato, ha tutto un suo giro. Non è che la disponibilità di grano è costante durante l'anno. E quindi il fatto che crescono e scendano, queste stagionalità sono abbastanza statiche. Quindi cosa si fa? Ci sono dei siti apposta dove si vedono proprio che queste cose negli ultimi 15 anni sono sempre andate in questo modo. E quindi io spero che anche il sedicesimo anno vada esattamente, quindi non so, il 3 di gennaio fino al 18 di febbraio quella cosa è sempre salita o è sempre scesa. E quindi posso investirci facilmente sapendo già che negli ultimi 15 anni è successo così e quindi è probabile che anche che nel sedicesimo anno sia esattamente così. Ci interessa sapere perché? No. Ci interessa sapere però che è così e come si possa guadagnare da questo tipo di attività.